Questa mattina abbiamo predisposto un importante posto di blocco per aumentare al massimo il numero di controlli dei cittadini che si stanno spostando e fare in modo che vengano rispettate le normative nazionali e regionali che prevedono che ci si possa spostare soltanto per comprovare i motivi lavorativi, di salute o di necessità. Ovviamente lo scopo è quello di sensibilizzare il cittadino al rispetto delle regole e fare in modo che il DPCM e l'ordinanza regionale sia rispettata.